Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e in questo video aprirò insieme a voi le uova di Pasqua Cioè, sono super gasata per questa cosa, infatti c'è ne ho aperto solo uno, solo uno Da, cioè insomma, l'ova me sono arrivate prima, quindi ne ho aperto solo uno Che è quello della mia amica che è qui seduta sul divano e spero non mi faccia ridere Perché non è abituata a queste cose video, cose così Allora, iniziamo, iniziamo Io inizierei che, inizierei cioè proprio dal fulcro Se dice fulcro Vabbè, dà la cosa top che è il Pasqualone, l'ovolone, come si chiama? Pasqualone E me l'ha regalato lei insieme all'uovo dei mini poni che ho già aperto Se dopo riesco mi metto qui da qualche parte il frame di quello che ho trovato Oggi tutte queste parole un po' complicate, tipo frame, si chiamerà frame? Vabbè, metto un ritaglietto Allora, Pasqualone dei poni Dentro ci stavano ovviamente i poni E ci ho trovato Fluttershy Per ricordare che io fra tre giorni faccio 27 anni C'era Fluttershy E c'era Pinkie Pie E c'è anche il ditino qui, vedete? Poi c'era un unicorno che non c'è tanto niente C'era la mascherina di Twilight Sparkle sopra E poi c'era tutti i poni piccoletti che io voglio mettere sulla torta Perché io voglio fare l'ostia con i poni E c'erano questi qua Che insomma, chi conosce il cartone sa che ci sono tanti personaggi E sono super carini Quindi niente Questo era il Pasqualone che io chiamo Volone Però non so perché me ne la chiamo allo Volone Quindi parte il nuovo hashtag Ovolone Allora, poi vi faccio idea A parte l'ovi La mia amica Paola mi ha fatto gli ovettini piccoli E poi Marco, oltre l'uovo, mi ha fatto la mini colomba Ma teoricamente Ah sì, all'interno i tatù di My Little Pony Li farò in una parte nascosta Così nessuno vedrà che ho i tatuaggi dei bambini fatti con l'acqua Allora, vediamo È uscito Rainbow Dash Rainbow Dash e Pinkie Pie Carinelli E poi dentro ovviamente c'è la colombina Ah, è pure ricoperta Cioè A parte oggi la mizia mi sono maniata un tocco così grosso di colomba Stanotte ci avrò un mar de panza sicuro Ma te la lasciamo Quella è un'altra storia Andiamo avanti Allora Apro il primo uovo E questo è di mia sorella Deborah Che ha la mascherina di Pinkie Pie sopra E io Tra l'altro mi sono attrezzata Anche di forbice Che tagliassi così Che oh mio dio Non so come farò Perché è duro Ce la faccio Avrei dovuto tagliarli prima Allora Aspettate Nia fabbricolace Risolve tutto Ok Ce l'abbiamo fatta Staccato il coso Staccato il pirolo Che so Sti piroli qua questi duri E quindi posso levare la maschera Peccato Non sono bambina Quindi la mia faccia non c'entra Ok Arriviamo al vivo del primo uovo Ora stacco Ora stacco La cordicella Che è più facile da tagliare Credevo Ue mamma mia Ce l'abbiamo fatta Adesso Io ho detto Faccio questo video Dove apro le uova No Ma come faccio A vedere A far vedere Quando io spacco l'uovo Quindi sono attrezzata Dello sgabbellino bianco Della bossazione Che c'ho dietro Sperando che non lo zozzo di cioccolato Allora Allora L'uovo È integro Cercate di lasciarli tutti integri Solo che Per non far schizzare la cioccolata Io l'ho infagotto E gli do un cazzotto Così Mi ha rotto una mano Mi ha cascato il cioccolato Addosso Vedi Mi fa coglione Oh mio dio C'è Ho trovato il puzzle Dei boni C'è No Vabbè Oh mio dio Ci farò il quadretto In camera Cos'è questo Ah Questo è per lo sconto Che c'era pure nel tuo Non ride Mi ha percorso Dopo Dopo Se Quando Sarò a fare il montaggio De sto video Avrò già montato il puzzle Ve lo metto qua Perché ormai Mi sono tipo sbizzarrita A mettere i pezzi De cose All'interno del video Vabbè Comunque ho trovato un puzzle E sto super troppo felice Super gassata Quindi il primo uovo È andato Poi Ciò qua l'uovo De mi zia Apriamo St'uovo Ok Che in realtà C'era sia per me Che per i miei nipoti E io Ho scelto questo Anche se qui Ha già un buco In realtà Non voglio mentirvi Ha già un buco Perché la cioccolata Quella Quella Vedete Quei bozzi Dentro Quei cereali E quindi ho detto No lo voglio io questo Perché si è rotto Quindi Infatti c'è Ciampirolo Defero Cioè L'ho fatta Allora Spaccato Vediamo che cosa c'è C'è una specie di Elastico fiocco Del mio colore preferito Ma non ho capito Se è un elastico Un fiocco Un elastico Un bracciale Lo scopriremo subito A parte io A sforzarmi Apri le cose Quando qui ho la forbice Vabbè Un bracciale È un bracciale È un bracciale Spero che a mia nipote maschio Non gli capita il bracciale Insomma Quando aprirà il giù Il secondo uomo è andato Adesso Ardo ha scelta Perché Aprirò Quello di mia sorella Giada Che dov'è? È questo Il Barbie Aspettate Non devo fare confusione Perché questo è quello di Marco E questi Deremo Quelli di mamma Ok Aprirò Barbie Cioè Io Io dovevo avere Assolutamente Barbie Quindi Togliamo la cartina Quando ci hanno Questo scotch Qui Come li apri Aspetta Forse Sto srotolare Sto srotolando Cavicchi ma non apra L'ho srotolato? Ho srotolato tutto Sì Ho srotolato tutto Carinello Io metterò il vasetto Fammelo togli Prima che l'ho srotto Perché ogni anno Ogni anno Che ho l'uovo di Barbie Mi tengo il vasetto Con scritto Barbie Però E ci metto i pennelli Però Visto che tutti i portapennelli L'ho riempiti E sto In abbinanza Come dico io In abbinanza Con la camera O ci metto le caramelle O ci metto una piantina Guardate che bello Adesso posso rompere l'uovo Uno Aspettate Uno Due Tre Ora mi rispacco una mano Questo è stato troppo forte Ah Io mi ho sfugato Ah Io mi sono fatta male Davvero Succio Ma che cazzo C'è dentro Sto sottolato Ah ecco Perché l'ho fatta male Non ci ho impiegato Sua Barbie Che dolore Quasi Quasi la torta Quest'anno Me la faccio Con l'ossia di Barbie E ci metto questa Sopra La barbina Vicino le candele Potrei C'è pure un cane in mano Quindi sono io Ecco ho trovato Barbie Non fate caso La mia unghia monca Che ho tagliato la parte col buco E Era bruttissima Tutta sangue pisto Sopra Ci ho messo Smaltino rosa Per camuffare Situazione Ma tipo orribile Spero non mi ricresca brutta Però è un'altra storia Non parliamo di uova Cioccolate Unghia monca Non assorriamo le due cose Ho trovato Barbie Adesso Adesso Apriamo l'uovo di Marco Che Io ho fatto il taglietto qua Per non confondelo E quindi Niente Marco mi aveva regalato La colombina Con l'ovetto Vediamo il cosa C'è di Questo strozza Ma come Sto vedi La cadastro Questo strozza Calda Arriva di vogliare Con l'acqua Cioè Solo io Ma non bevo l'acqua E posso strozzare Vabbè Allora Devo ritrovare Il pacchetto Aiuto Niente Taglio Eccoci C'è roba che Le carte Sono bellissime Infatti Non le voglio buttare Magari riprendo Ridaglio ogni pezzetto Di carta E mi attacco Sua gente Dico Carto pazza Disperata Siete pronti? Ho paura Questo spacca la mano 3 2 1 Non si è rotto Vai Rifacciamo Rifacciamo 3 2 1 Oh ma Che cazzo è? Non si è rotto Non si è rotto Non si è rotto Proviamo Robiamo col corno Lo bucherà 3 2 1 3 2 1 Se buca Oh Ce l'abbiamo fatta L'uovo Highlander L'uovo Highlander Anche qui Un altro puzzle Allora Non so se saranno uguali Però io li aprirò lo stesso E se sono uguali Li metto in due camere diverse No vabbè Forse se sono uguali Potrei cederlo a mia nipote Ma non è nemmeno sicura Nemmeno sicuro Dipende Domani mi sveglio buona Poi Arriviamo all'uovi Di mamma Sono indecisa Perché mi piacciono tutte e tre Tantissimo Però secondo me Questo è quello Che io potrei lasciare Per ultimo Perché cioè Sono tipo pazza Per gli orsetti del cuore C'ho sto ciuffo I pelle Sono tipo matta Per gli orsetti del cuore Solo che non mi sconfinfero Il fatto che c'è scritto All'interno I 3D degli orsetti del cuore Cioè se io all'interno Ci trovo un adesivo E mi lascio stavo per ultimo Mi rimango malissimo Quindi ho deciso Che lo aprirò adesso Perché dopo abbiamo Le principesse E per ultimo Abbiamo Questo qui Dele superchicche Pure delle superchicche Cioè pazza proprio Più totalmente Oggi sto di tutte cose male Pazza più totale Più totalmente Sono un po' dislessica Lo sapete scusate Sono tipo super gasata Perché c'è tipo Sto presa benissimo Quest'opi E niente Ve lo dico da subito Perché ho visto la pubblicità In stazione Quando sono partita In televisione Proprio al supermercato Do sto stand Dell'Ovi Se io non trovo Il carry on Dei superchicche Io spacco tutta casa Ve lo dico in diretta Io spacco tutta casa Cioè la serie Come la canzone Le cose Ma io faccio un casino O metà del carry on O spacco tutta casa Allora Cioè Ve lo dico Pure qua Se io trovo adesivi Mi metto a piangere Se io trovo gli adesivi Mi metto a piangere Mi metto a piangere Vado Sto pugno minaccioso Oddio Come una volta Che c'era il coso Da prì Non è una di sigo Casatissima Cioè Sto pesa benissimo Pure questo Potrei mettere Sulla torta Perché c'è Stato tipo un anno L'ho fatta La torta dei barbie Tipo tre anni De filo Ho fatto quella Che i boni E un anno Ho fatto Orsetti del cuore Cioè Ora se mi va Anche indecisa Sulla torta Scrivete qua sotto Come potrei fare La torta Perché fondamentalmente Io scelgo uno Sì e poi ce lo metto I pupazzi sopra Quindi dovete scegliere Tra pony Orsetti del cuore O barbie Aiutatemi Grazie Oppure le principesse Perché io ho visto E mi dovrei andare a prendere In quel caso Gli ovetti kinder Da piccoli Che c'hanno Le principesse Che se baciano Col principe Quindi c'hanno tutte le coppiette Io potevo mettere Tutte le principesse Quindi scegliete Tra queste quattro ipotesi Mi raccomando Fatemelo sapere Perché sono molto combattuta Oh mio dio Cioè Io c'ho pure la cover Perché non si mette Su cosa Il buco non è uguale Scusa Questo è ottagonale Questo è cerchio Cioè c'è qualcosa E non mi guarda Tesoro mio Sei così carino Senza buco Ok Adesso 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 Arriva il momento Delle principesse Ci lasciamo Le superficie Per ultime Allora 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 Non mi dai una mano Mi sento Questo è il momento Che mi dai una mano Mi sgarerò No Buone Non mi sono sgarata Oh Ma si è rotto Si è rotta la calca Scusate Il fagotto Che accio Vediamo che cosa c'è A parte La plastichetta È della Roma Quindi già ci piace Allora Vediamo che cosa Ci ho trovato dentro Siete pronte? Chi cazzo è? Aspetta Oddio Non mi ricordo mica Come si chiama questa Sono troppo vecchia Però mi piace Già che bionda È tipo Asosia d'Aurora Rimodernizzata Aspettate Devo infilare la gonna Mò vi faccio vedere tutto Aspettate Mannaggia La miseria Con queste conne Svolazzanti Aspetta I gambe Sono giuste Mi manca solo Gli metti i gambe Al contrario Aspettate Se sei ingrassata Se sei ingrassata Tutta l'imposto Sta cioccolata Ok ci siamo Allora La principessa È questa E c'ha anche il cane E Non mi ricordo Come si chiama Visto che tra voi Gnappe Ci sono tante Ragazzette Giovani Scrivetemi Come si chiama Perché non mi ricordo Mi raccomando Ok È il momento Dell'ultimo uovo Qua parte la canzone Proprio dei roghi Era dei roghi Quella hai fatta Tan 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 No De chi era Dai De chi era Eh de roghi Nera rambo pure No No C'è copyright Vabbè parte qua Canzone molto Che voi sapete Sicuramente De chi è Non so se Non avete capito Vabbè È arrivato il momento Kinder maxi Superchicche Dolly Lolly E molly Fatemi sapere Qual è la vostra Superchicca preferita La mia La mia ovviamente È quella verde Da quando ero ragazzina Mi piaceva quella verde Si lo so Questa c'è quella bionda Però verde È il mio colore preferito Quindi tra i capelli biondi E il verde Predominava il verde Quindi è la mia preferita La vostra Qual è Però scrivetemi Rosa Verde O azzurro Perché io so che si chiama Dolly Lolly E molly Ma non mi ricordo Ma chi è Dolly Chi è lolly E chi è molly Ho fatto lo scioglieling Ma ho provvisato Con un attimo Allora È arrivato il momento Respira Se non c'è Quello che dico io Spacco tutto È un po' l'ansia 1,2,3 1,2,3 Ok la plastichina è gialla La plastichina è gialla Secondo me non c'è però Me lo sento Me lo sento che si muovono troppo Metterò a piange È un po' l'ansia 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 I cani si fanno ammazzare Gli ho detto a mia madre Ma sceglielo bene Perché se non lo trovi È colpa sua Ho trovato C'era De tutti i regali Che c'erano dentro Erano belli tutti Io dico la verità Però questo era il più bello De tutti Che c'erano Basta Non ho 30 anni Non vado per i 30 Allora Sono super casata C'è la mia vita Qua parte l'hashtag La mia vita Oh mio Dio Ce la faccio Ce la faccio Non ce la faccio Qua poi ci dovrei mettere Tipo adesiglietti Appiccicati Ma ci appiccico Perché sono già 20 minuti di video E niente Sono un attimo In iperventilazione Ok Mi compongo C'ho il carion Che panno è un carion È un cosmo Non sapevo come chiamabelo Ok ho trovato Quello che volevo Il mio tesoro Sono già 21 minuti di video E non ho Nemmeno chissà quante nuova Perché ci stanno Vole Cioè io ho visto Tante ce ne hanno avuto Tipo 15 Io sto tipo così Vabbè E niente Allora Ricapitoliamo Spero che questo video Vi abbia tenuto compagnia Grazie Se siete arrivati Fino a questo punto Commentate con un cuoricino Così io so che mi avete sopportato Fino alla fine Se vi ho rotto i timpani Nello strello Dell'enfasi Delle superkick Vi chiedo scusa Fatemi sapere Come avete trascorso la Pasqua Io sono stata la mizia Tipo che abita Tra Latina E Aprilia Che è tipo zona Campo dei Carni Sono stata la mizia E niente Fatemi sapere Quanti uovi Avete ricevuto Quali avete ricevuto Se ne abbiamo qualcuno in comune E soprattutto Che cosa ci avete trovato E se qualcuno Che si è preso le superkick Ha trovato questo Che ci ho io Spolliciate Vi mando un grosso bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao